Di fame, di denaro, di passioni. La vita del cantante popolare Matteo Salvatore sbarca al Tran International Festival, a raccontarla nella suggestiva piazza Duzzi l'attore barise Sergio Rubini in un commovente viaggio tra musica e parole. E' il Sud che racconta il Sud, una biografia che può essere ascoltata e compresa in maniera autentica solo da chi è in grado di riconoscersi nelle contraddizioni di un personaggio come Matteo Salvatore. Sergio Rubini ne racconta la miseria e la fame dell'infanzia, ma anche l'ingenuità di spirito e di parola che non gli impedirono di scrivere ballate sempre incisive, ironiche, divertenti. Accompagnato dalle splendide esecuzioni musicali della Daunia Orchestra, l'attore barise stupisce il suo pubblico incarnando perfettamente pensieri e parole del cantautore di Apricena. Scoperto da Claudio Villa e amato da intellettuali del calibro di Calvino, Matteo Salvatore conoscerà il successo e la sua naturale parabola discendente. Una vita fatta di cadute e di riscatti terminata nel 2005 e segnata profondamente dalle traversie giudiziarie che negli anni 70 lo videro accusato di omicidio della sua fidanzata. Rubini racconta tutto questo, le ombre e le luci di un personaggio che simboleggia insieme la poesia, la forza d'animo, la semplicità e tutta l'anima oscura di un meridione complesso e contraddittorio. Ieri si resta anche l'ultima occasione per vedere al Trani International Festival lo spettacolo La lettera di uno straordinario Paolo Nani presso Palazzo Quercia. Di fame, di denaro, di passione di Sergio Rubini andrà in scena invece anche oggi con appuntamento alle ore 22 sempre in piazza Dazi alle spalle della cattedrale tranese. Palazzo Beltrani invece ospiterà alle 22 e 15 la prima di ragù, tiritiere, proverbi, storielle e personaggi della realtà popolare di Bari raccontati dall'attore Vito Signorile del Teatro Abeliano di Bari. Alle ore 22 e 30 invece appuntamento con musica e cinema d'autore in piazza Teatro. Durante la proiezione del film Metropolis di Fritz Lang il gruppo musicale dei Super Shock eseguiranno dal vivo musiche appositamente scritte per interagire con le immagini.